Nonostante abbiamo iniziato male, comunque ci siamo riprese per questo match e l'abbiamo vinto tranquillamente facendo anche vari cambi con i vari giovani. Siamo ancora qua amarecciate per la sconfitta di ieri sul cuore contro il Ferrara, però comunque domani giocheremo per il punto stesso posto mettendocela tutta e cercando di raggiungere la vittoria.